questa è l'ora solare ci siete tutti e questo per noi è sempre fonte oltre che di grandissimo orgoglio di grande gioia e ci siete nelle puntate come quella che vi sto per presentare quella punta in più di attenzione perché perché siete il pubblico di tv 2000 perché quando c'è da fare qualcosa per gli altri perché ha meno fortuna anche se è soltanto una goccia quella che mettiamo nel mare bene abbiamo aggiunto una goccia nel mare medici senza frontiere quando il nome mantiene esattamente la promessa di tutto quello che viene fatto medici senza frontiere giorgia girometti ben arrivata operatrice umanitaria da quanto tempo con medici senza frontiere dal 2016 4 anni quindi quattro anni non non se ne poteva fare a meno no perché li ha conosciuti ed è scattato si già già li conoscevo da prima diciamo dai dai tempi dell'università si io ho fatto ho studiato in francia e medici senza frontiere è stata fondata in francia negli anni 70 e avendo studiato appunto scienze politiche cooperazione e azione umanitaria era poi l'ONG con la quale avrei voluto lavorare fin da subito quindi è giovanissima però ha già un grande curriculum alle spalle figuratevi che cosa che cosa vuole ancora fare giorgia sarà importantissima nella giornata di oggi più che mai per noi lo è sempre ma per noi in particolare perché abbiamo bisogno del vostro aiuto un minuto e trenta di immagini so che voi sapete farlo non perdete neanche un fotogramma per favore medici senza frontiere a tutti noi ha tolto la libertà per un po di tempo a molti ha tolto la vita per sempre il coronavirus ci ha colpiti uno a uno paese per paese perché come molte malattie non conosce frontiere e mentre continuiamo a combatterlo in italia lo facciamo anche in tutti quei paesi in cui la sanità pubblica non esiste e che sono stati messi in ginocchio chiama l'ottocento 98 42 97 e dona 9 euro al mese infettivologi infermieri sono migliaia le persone di medici senza frontiere in azione per fermare la pandemia quando è scoppiata l'emergenza eravamo in lombardia nelle marche in strutture per anziani e tra comunità vulnerabili in diverse regioni d'italia oggi siamo in oltre 70 paesi del mondo dove per il coronavirus muoiono centinaia di persone ogni giorno siamo in siria dove restare a casa non è possibile perché non tutti hanno una casa siamo nell'amazzonia brasiliana dove il sistema sanitario è al collasso aiutaci ad affrontare l'emergenza perché senza il tuo aiuto in tanti paesi non andrà tutto bene qui le persone non hanno accesso alle cure di base non sono al sicuro dal contagio chiama l'ottocento 98 42 96 il tuo aiuto andrà oltre ogni frontiera allora chiedo ancora al nostro alessandro trese la nostra regia per favore quel cartello 800 800 si ricorda facile facile 98 42 97 si può andare anche sul sito però 800 98 42 97 con 9 euro al mese si forniscono 20 mascherine chirurgiche protettive ogni mese per chi ne ha bisogno ne abbiamo tutti bisogno con 15 euro al mese si dona in un anno la bellezza di 84 kit per medicazioni d'urgenza cara giorgia girometti adesso veniamo a noi intanto voi 800 98 42 97 anche il covid è senza frontiere è un altro modo di essere senza frontiere ma anche il covid è senza frontiere la il disagio che provano le mamme i bambini nel non avere una sanità è spesso senza frontiere che cosa fate voi allora io posso parlare della mia esperienza della mia ultima missione e quando il covid è arrivato in europa come come nel resto del mondo io mi trovavo in repubblica centrafricana è un paese cui la maggior parte delle persone non sente mai parlare forse neanche sa dove si trova è subito sopra al congo proprio al centro del dell'africa se si prende una cartina e e chiaramente in dei paesi come come la repubblica centrafricana che nel 2019 ha vinto il triste primato di secondo paese più povero al mondo le emergenze sanitarie al di là al di là del covid sono enormi sono sono dilatate tutto e più grave quindi parliamo appunto di di malaria che ancora la prima causa di morte e nel paese di mortalità materna appunto legata a complicazioni durante la gravidanza e durante il parto ancora di una forte prevalenza dell'eds ad esempio morbillo e via dicendo quindi certamente il covid è un'altra emergenza che si va ad accumulare in un contesto che dire che già estremamente problematico e quindi la sfida è stata per noi che ci trovavamo in queste in queste situazioni in questi paesi quella di adattare i progetti o comunque le risposte sanitarie che che già erano in corso a questa nuova a questa nuova realtà medici senza frontiere come corratele queste immagini e come l'acqua in tutti i sensi perché dove arriva riporta vita e riesce a non far morire magari fosse così per tutti ma insomma riesce a salvare e come l'acqua prende la forma del contenitore che in quel momento è il contenitore più opportuno quindi nel suo caso lei si trovava già in una situazione dove appunto avere quel primato di paese tra i più poveri tra il più povero paese nell'africa o comunque la povertà totale è arrivato anche il covid quindi immediatamente vi siete dovuti il che non toglie l'aiz non toglie la fame non toglie le malattie che noi ci siamo dimenticati il morbillo e altro però immediatamente vi siete adattati qual è l'aiuto che noi possiamo darvi 800 98 42 97 se volete anche digitare il numero mentre ci state seguendo con un orecchio ci seguite con l'altro fate questo numero di telefono io so che voi sapete fare anche queste cose qual è qual è l'aiuto di cui voi avete più bisogno in questo momento beh certamente come come l'hai detto è quello di un sostegno regolare da parte da parte dei donatori da parte pubblico e ci che ci ascolta a casa perché la specificità di medici senza frontiere è che noi ci basiamo su solamente su donazioni private punto di persone come me come noi ecco diamoci del tutto come noi e perché la specificità di medici senza frontiere è l'indipendenza economica questo che vuol dire poi nella nel sul campo e nell'azione di tutti i giorni vuol dire che noi grazie a questa indipendenza possiamo rispondere in base ai bisogni che troviamo sul campo in base ai bisogni dei nostri pazienti senza nessuna condizionalità no ma solamente sulla base di quella che è l'emergenza in quel momento e quindi come l'hai detto e momento del covid siamo stati capaci di adattarci a questa nuova emergenza perché avevamo comunque questa flessibilità e questa indipendenza che ci caratterizza allora noi ci fermiamo per un attimo nel frattempo durante questa piccola pausa pubblicitaria 800 800 98 42 97 tanto voi il numero l'avete segnato però io ve lo ripeto ogni tanto tra poco parleremo di come medici senza frontiere continui a garantire in tutto il mondo a cominciare dal nostro paese quel diritto alla salute che è il rispetto per la dignità umana ci vediamo tra un attimo l'ora solare vi aspettiamo giorgia girometti medici senza frontiere una ragazza brillante brava che abbiamo scoperto viaggia anche con la sua metà in questi viaggi dedicati a chi non ha niente quindi siete siamo un duo fate fate le valigie in due uno dice non una brava in famiglia tutti e due ed è già un gol il gol lo fa sempre medici senza frontiere perché ovunque arrivino questi medici sostenuti dai privati sostenuti da chi abbia voglia di far sì che possano rimanere autonomi di indipendenti laddove arrivano curano 898 42 97 poi ci dedicheremo partendo da 9 euro al mese a che cosa che cosa accada nel 2019 avete fatto partorire nel 18.600 donne in sicurezza sentito nei paesi che questi problemi che questi problemi non li hanno non dovrebbero averli più sembra una cosa normale invece e invece appunto in repubblica centrafricana che è dove quelle 18 mila donne hanno potuto partorire in sicurezza non è una cosa normale e pensa che nella capitale banghi è il nome della capitale certo abbiamo questo progetto che si chiama castor che prende il nome da uno dei quartieri della città che è un ospedale appunto specializzato in maternità ed è l'unico ospedale in tutta la città dove le donne possono partorire o comunque ricevere cure gratuitamente e cure di qualità pensiamo ad una città più o meno della taglia e della popolazione di torino con solo un ospedale ecco dove però le donne ottimo giorgia questi sono i paragoni che ci devi portare e però le donne a differenza delle donne italiane hanno nella loro vita una media di sei bambini quindi insomma ovviamente la bilancia cambia un po' il carico il carico di è diverso problemi di salute sale, cresce ci sono queste fotografie che scorrevano mentre mentre tu ci parlavi e c'è chi dice ma chi te lo fa fare c'è chi dice chi te lo fa fare vero qualcuno qualcuno o qualcuno lo pensa chi te lo fa fare beh questo sicuramente è un lavoro non è non è solo un lavoro è una scelta di vita che si fa e che però ti dà tanto lo facciamo chiaramente per i nostri pazienti per i nostri beneficiari ma lo facciamo anche per noi perché sono delle esperienze che certamente poi ti porti dentro anche dopo che sei tornato sì e questo è perché ha proprio la faccia della persona egoista Giorgio Girometti è l'espressione dell'egoismo il concetto è anche quello lo faccio per stare meglio perché capisco che fratelli tutti no siamo tutti quanti legati tutti tutto il mondo forse mai come in questo momento lo stiamo capendo è legato da un unico filo questo filo ci porta fino a Bruxelles dove ingegnere ambientale e operatrice umanitaria di medici senza frontiere anche lei dal 2016 c'è Giulia Baldissera Giulia buon pomeriggio buona ora solare buon pomeriggio a tutti adesso la vediamo anche eccola qua ben trovata allora l'ingegnere ambientale dice ma non erano medici senza frontiere ecco l'ingegnere ambientale intanto applausi complimenti grazie per il lavoro che lei fa ecco guardi anche le applausi le mandiamo la nostra regia che non perde un colpo allora ascolti Giulia perché un ingegnere ambientale con medici senza frontiere? allora è stata un po' una sorpresa anche per me nel senso che ho visto medici senza frontiere all'opera nel 2016 e poco dopo ho scoperto che non erano solo medici o non erano solo infermieri per permettere a un medico di fare il suo lavoro di curare i pazienti in realtà servono almeno non posso dare un numero però almeno 50 80 persone dietro per fare sì che lui possa arrivare dove si trovano i pazienti e possa fornirgli delle cure se pensiamo anche a tutto quello che gli serve per curare un paziente vuol dire avere attorno a sé una clinica avere dei medicinali avere della strumentazione sterilizzata spostarsi e quindi servono un sacco di cose intorno al medico e grazie a questa scoperta ecco l'ingegnere ambientale che fa? lei che cosa fa? allora io mi occupo di varie cose che stanno intorno al lavoro del medico ecco, fornire l'acqua potabile nell'ospedale, nella clinica in cui lavoriamo smaltire le acque usate per esempio perché possono essere pericolose per la popolazione che vive intorno all'ospedale se non vengono gestite adeguatamente perché sono acque che provengono da un ospedale e la stessa cosa anche per i rifiuti che sono rifiuti sanitari quindi potenzialmente pericolosi e mi occupo anche molto dell'igiene quindi tutto quello che serve a evitare la trasmissione delle infezioni da un paziente all'altro attraverso l'ambiente quindi una cosa che si è visto diventare molto importante anche adesso con il Covid sì, molto importante allora ingegnere rimanga con noi il Congo, Giorgia, è il paese, abbiamo detto, tra i più poveri al mondo in quelle aree c'è il più alto numero di stupri le donne, e per donne intendiamo le donne e le giovanissime donne sono fatte oggetto del gesto più odioso odioso che esista e in tutto questo profluvio di violenza voi arrivate e fate respirare aria pulita sì, in Congo tra l'altro anche Giulia è stata lì in missione conosciamo lo stesso progetto soprattutto nella zona nord-est del nord Kivu purtroppo c'è ancora una fortissima incidenza di violenze sessuali e comunque violenze verso le donne perché purtroppo sono quelle zone, sono quelle regioni dove possiamo veramente parlare di violenza cronica e ciclica e quindi le popolazioni che abitano lì sono ovviamente le prime vittime poi di queste violenze che non smettono sono continue ormai da più di vent'anni in quella zona e MSF ha un progetto che si chiama Masisi è un ospedale in una zona veramente sperduta è un ospedale in mezzo alle montagne e tra l'altro quando ci arrivi da Goma che è l'altra città più vicina non capisci come sia possibile aver costruito un ospedale proprio lì ed è importantissimo perché la sola struttura ospedali era per più o meno mezzo milione di persone se non mi sbaglio torno da Giulia Baldissera quando si sentono queste notizie di queste violenze fanno inorridire quando ci si trova in quella zona quando si guardano negli occhi le donne che hanno subito quelle violenze e lì cambia un po', cambia la musica, no? è tutto diverso, Giulia? sì, io oggi quando ripenso a Massisi anche adesso che Giorgia l'ha nominato sorrido, è un posto a cui sono molto affezionata sono molto affezionata a tantissime persone con cui ho lavorato quando ero lì però sì, stare lì non era facile i nostri colleghi congolesi con cui lavoravamo avevano delle storie così complicate avevano avuto delle vite così difficili diverse dalle nostre che non lo so, credo che non riusciamo neanche a renderci veramente conto di come si possa nonostante tutto crescere, andare avanti continuare a vedere un futuro per la propria famiglia per il proprio villaggio in una situazione in cui anche il proprio padre era già nato in un contesto di guerra è talmente radicato ormai questo sì, questa violenza come diceva Giorgia in tutto quello che succede nella vita quotidiana dei nostri colleghi congolesi però se voi fate l'800 mi sono perso il numero aspettate un attimo che andiamo subito 8 0 0 9 8 4 2 9 7 lo ripeto 8 0 0 grazie regia 9 8 4 2 9 7 provate a pensare di cominciare a donare 9 euro al mese dividete 30 giorni per 9 euro non facciamo mai i conti in tasca a nessuno però provate a pensare che quei 9 euro moltiplicati per tante persone fanno salvezza vi chiediamo aiuto Medici senza frontiere è presente in oltre 70 paesi dico bene Europa, Africa, Medio Oriente America Latina Asia siete dappertutto siamo dappertutto e quei 9 euro vogliono dire tantissimo sì, vogliono dire veramente tanto perché come dicevo prima ci permette di quei 9 euro ci permettono di anche pianificare le nostre azioni e come dire di essere più efficaci non solamente rispetto all'emergenza di oggi ma anche di come dire prepararsi a quella che potrebbe essere l'emergenza di domani voi non conoscete non emergenze cioè dove c'è un'emergenza voi ci siete durante il covid Giulia era in Italia il suo contributo è arrivato a Milano negli ospedali di Lodi Codogno nell'RSA delle Marche ma io le voglio due figlie così cioè dove si firma per avere le figlie come voi? eh non so lo dica Giulia mi dia questa notizia mi informi eh tace tace ingegnere sto parlando con lei forza lei ha fatto delle cose inenarrabili anche come è stato per Medici Senza Frontiere in Italia nel periodo è il tempo del covid questo ma c'è stato un tempo in cui a marzo a marzo insomma è stato tutto più difficile dico bene? posso raccontarmi un po' com'è stato l'intervento perché a livello emotivo mio personale è stato molto diverso da tutti gli altri io mi ricordo benissimo il giorno in cui sono partita in macchina da da casa mia da Venezia e ero veramente spaventata all'idea di quello che mi aspettava perché tutto quello che si era visto in televisione subito prima era era la prima volta che lo vedevo rivolto al nostro paese quindi non è la stessa cosa e poi sono arrivata a Milano abbiamo cominciato a lavorare ho visto tutti gli altri miei colleghi e mi sono tuffata su quello che c'era da fare però dopo un mese di dopo un mese che ero lì ho preso qualche giorno libero e mi ricordo che improvvisamente sono crollata perché c'era stato tutto il carico emotivo di vedere il mio paese ridotto in questa situazione non non mi era mai successo non non era qualcosa che avevamo visto negli ultimi decenni allora queste parole di Giulia Baldissera e con lei ringrazio Giorgio Girometti ci dicono una cosa ho visto colpito il mio paese vi prego vi prego fate questo numero 800 98 4297 provate a pensare che tutti i paesi del mondo siano il vostro paese se la vediamo così Medici Senza Frontiere la possiamo veramente aiutare grazie di essere state con noi comunque rimane il principio voglio due figlie così 800 98 4297 Medici Senza Frontiere voltiamo pagina grazie grazie adesso vi faccio una domanda probabilmente mi rivolgo alle persone un po' più grandi voi ve la ricordate quella frase c'è niente per me? è una frase bellissima che sentivamo dire almeno io mi riferisco a quel tempo alle nostre mamme quando vedevano arrivare il postino c'è niente per me perché c'era in quella domanda la speranza anche no? di poter ricevere una lettera una cartolina la notizia da qualcuno lontano insomma qualcosa a cui si teneva molto vi presento collegata da Poggio San Vicino siamo in provincia di Macerata è un paese di poche anime ma da come c'è stato descritto deve essere un posto tanto bello una splendida ragazza che fa la postina si chiama Ivana Primucci e non rida perché ho detto splendida ragazza eccola lì buongiorno 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 ben trovata buon pomeriggio buon pomeriggio detta anche la postina del Tibet delle Marche cominciamo con ordine che cos'è il Tibet delle Marche signora Ivana il Tibet delle Marche è praticamente il Cito che è una frazione del comune di San Severino Marche quanti abitanti? allora ci sono sette punti di recapito la maggior parte sono anziani devo dire la verità non 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 c'è grandissima vita lì solo l'aria buona il panorama eh ma hai detto niente eh insomma aria buona è passata di sti tempi Ivana allora guardatele bene diciamo che eh insomma diciamo che di questi tempi può non dico possa bastare può essere una cosa molto importante allora perché lo chiamano il Tibet delle Marche? perché è a 800 metri d'altitudine e poi eh c'è un silenzio che è quasi surreale devo dire eh io quando cammino tra le viuzze boh c'è una sensazione strana il silenzio ti entra dentro i pensieri si sentono solo i pensieri che bella cosa che ha detto io mi rifaceva i passi e invece lei ha puntato subito in alto Ivana si sentono solo i pensieri senta in questo tempo poi arriviamo al perché lei oggi sia una postina perché abbia scelto questo lavoro perché lo faccia con tanta cura eh lei in questo tempo di di lockdown in questo tempo così difficile è stata molto più della persona alla quale chiedere c'è niente per me perché eh quanti chilometri macina l'abbiamo vista con la sua macchina delle poste italiane sì eh più o meno 120 chilometri al giorno al giorno sì bel tempo e cattivo tempo sì 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 con la sua macchina eh con la macchina delle poste sì chiaramente è 4x4 4x4 eh sì perché con la neve che da queste parti ne fa quindi è necessaria ecco senta Ivana e qual è più che mai oggi il suo forse più che dire il rapporto con i clienti delle poste italiane di El Cito ehm il rapporto che si crea quando oltre alla lettera oltre alla bolletta oltre a quello che il postino porta si ha bisogno di avere di scambiare due parole di sentirsi meno soli di essere collegati col mondo eh sicuramente in questi periodi adesso con il lockdown eh arrivavo nei paesetti e tutti quanti perché comunque ero l'unica persona autorizzata a poter girare da un paese all'altro quindi eh chiedevano che ne so cosa succede in quell'apposto cosa si fa eh in quell'altro paese se c'erano casi di covid ovviamente perché comunque eh si informavano sul sulle persone che conoscevano che però non potevano andare a trovare eh no perché chiaramente si è tutto si è chiuso anche se eh anche se chiaramente in un ambiente naturale meravigliosamente bello però a maggior ragione tutti coperti lei compresa sì sì quanti caffè le offrono poi d'inverno bicchiere no bicchiere di vino no perché lei deve guidare però c'è questo c'è questa affezione no si crea questa affezione sì devo dire che adesso eh non più nel senso che comunque le persone sono molto più eh no malfidate però comunque tengono le distanze perché ovviamente e quindi si saluta terrazzo una chiacchierata dalla finestra però finisce lì perché ovviamente e poi dove cioè la maggior parte sono persone anziane quindi anche io certo nonostante porto la mascherina sento una certa responsabilità certo bravissimo deve portare solo la posta lei non deve portargli eh nient'altro esatto neanche per sbaglio nessun regalo però però c'è l'affetto c'è l'affetto comunque insomma sì sì la postina sì sì perché comunque è sei un punto di riferimento è sempre stato così speriamo che continui così assolutamente sì allora ehm questa signora che vedete ma lo dice Dio li fa e poi li accoppi è sposata a un vigile del fuoco cioè proprio siete una famiglia bella per principio proprio il bene degli altri o in una forma diversa sono due lavori diversi insomma ma il bene per gli altri è ben stampato nella vostra testa lei è mamma? sì 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 mamma di un ragazzo ormai di bambino ma è un ragazzo di 17 anni e una ragazzina di 13 e vivete in un posto Poggio San Vicino dove sì il pendolarismo lo impari subito no? sì 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 da da quando nasci se ecco devi nascere in un altro paese comunque non a Poggio San Vicino le scuole già dall'asilo devi prendere il pulmino dal qualsiasi movimento tu devi fare qualsiasi attività devi comunque spostarti con la macchina o con i mezzi pubblici che sono pochissimi allora guardate questa fotografia poi si parla del foliage insomma quando le foglie le foglie d'autunno per dirla insomma in maniera molto diretta ecco lei scambierebbe mai questa meraviglia che stiamo vedendo che per carità è complicata è complessa ci vuole una macchina 4x4 la corriera ti devi spostare per una consegna cittadina nel traffico in fila davanti ho una macchina ho una file che facciamo Ivana lei lo scambierete? assolutamente no diamoci 5 top top perché sì perché sì lo capisco lo capisco insomma è difficile però vivete immersi nella bellezza della natura quello ovviamente sì non abbiamo tutti i servizi della città ma abbiamo tantissime altre cose senta ma perché lei fa la postina? lei mi diceva fatti i fatti tuoi no invece io glielo devo chiedere perché insomma è giusto chiederglielo perché lei ha scelto di fare la postina? è stato devo dire per caso perché finite le superiori dovevo comunque trovare un lavoro quindi sono andata all'ufficio collocamento con mio padre che mi ha accompagnato e mi sono messa in fila e poi visto che comunque mi piaceva questo lavoro perché mi piaceva ho continuato ho cercato di fare altri mesi alla fine sono entrata a tempo indeterminato bella Ivana Primucci perché ha la concretezza marchigiana proprio glielo dico perché è una terra che amo molto quindi molto liscia molto diretta e da quanti anni fa questo lavoro? vogliamo ricordarlo a chiusura? allora diciamo io ho iniziato a fare la porta lettere dal 94 poi ho fatto alcuni mesi e poi nel 98 sono entrata a tempo indeterminato quindi sono più di 20 anni è una bella è una bella carriera senta si deve sempre chiedere in questi casi la consegna più bella dica la consegna più bella sicuramente quando si portano buone notizie certo quello è una volta ho portato degli auguri per un matrimonio dal Papa e e mi sono emozionata anch'io che portavo questo telegramma così per me importante devo dire dal Papa e insomma e quindi insomma lo ha consegnato sono stata contenta di aver fatto questo regalo esatto agli sposi e lì mi dica che però ha festeggiato un po' con gli sposi lei non perde tempo non ci si mette seduti ma senta ma quando fa freddo prima prima di questo covid di questo orribile covid quando quando nevica insomma da quelle parole ci sono ci sono le persone che le dicono ma entri entri che se no si gela sì sì è capitato anche proprio a El Cito che comunque ci vogliono cinque chilometri per arrivarci tutte curve via dicendo sono arrivata lassù e una signora che aveva la corrispondenza mi ha detto ma come hai fatto a venire fino a qui vieni entro prendi un caffè che sei freddolita insomma mi ha offerto un caffè e poi sono ripartita per il giro insomma però è stato piacevole sono stata contenta è tutto qui guardate noi questa storia l'abbiamo cercata non solo perché è una storia molto bella ma perché poi piano piano chiacchierando con Ivana Primucci ci siamo resi conto che lei la pensa così è tutto qui noi facciamo questo lavoro siamo a disposizione degli altri è tutto qui come tutti i portalettere che sono tutti a disposizione delle persone gestiscono tutta la corrispondenza aiutando le persone che comunque aspettano chi la fattura chi la raccomandata chi è un servizio io dico che le post è un servizio e lei è una bella persona e lei è una bella persona uno a uno palla al centro Ivana Primucci grazie di essere stata con noi grazie grazie alle poste italiane che ci hanno messo in contatto con questa signora ci fermiamo soltanto per un attimo e torniamo con la nostra e vostra ora solare che bello torna torna l'appuntamento mensile con la richiesta di preghiera del Papa la richiesta di preghiera del Santo Padre affidata a tutta la Chiesa Cattolica attraverso la rete mondiale della preghiera del Papa Padre Paolo Benanti che ci ha fatto il regalo di essere oggi con noi è teologo francescano del terzo ordine regolare lei mi dica se sto dicendo tutto bene e si occupa di tecnologie ed etica ben arrivato grazie grande compito ci proviamo ci proviamo è da oggi che mi dice ci proviamo allora per capire perché abbiamo chiesto a Padre Paolo Benanti di essere con noi ascoltiamo la richiesta di preghiera del Papa di questo mese del mese di novembre ascoltiamola con la solita consueta grande attenzione la intelligenza artificial sta in la raiz del cambio di epoca che stiamo vivendo la robocca può essere possibile un mondo meglio se va unida al bene comune perché se il progresso tecnologico aumenta non è un progresso real i futuri avanti devono essere orientati al rispetto della dignità della persona e della creazione creiamo per che il progresso della robocca e della intelligenza artificial stai sempre al servizio del ser humano possiamo dire sia umano perché il progresso della robotica e dell'intelligenza artificiale sia sempre al servizio dell'essere umano possiamo dire sia umano padre Paolo Benanti qua mi deve veramente aiutare lei perché certo perché se tutto questo è al servizio dell'essere umano si fanno grandi passi in avanti diciamo che ci troviamo di fronte a un'altra tappa di un viaggio molto antico quando abitavamo le caverne quando ci siamo resi conto che la nostra mano era molto funzionale e abbiamo preso in mano la prima clava ci siamo resi conto che poteva essere uno strumento fantastico per sfamare meglio le persone che abitavano con noi o un'arma potentissima per andare contro altri uomini e da allora la domanda è sempre la stessa quello che tocca la mia mano può essere uno strumento o un'arma e il bene e il male passa dritto dal mio cuore solo che quella clava ora non tocca più la mano non è più elettrica o elettrificata come all'inizio del novecento con l'industrializzazione diventa quasi invisibile diventano questi programmi per computer che oggi muovono il mondo ma non per questo meno utili o meno mortali ecco una domanda antica che oggi conosce nuovi orizzonti una domanda antica è bellissima per un attimo l'ho guardata così una domanda antica no invece è quella la grande discriminante proviamo a pensare alla sanità all'ecologia alla cura della disabilità tutto questo se applicato alle nuove tecnologie può cambiare in maniera positiva la vita delle persone assolutamente cambia la cambia a tutti gli effetti parliamo di una cosa reale assolutamente noi riusciamo a ridare la capacità di vedere a persone che non vedono con assistenti digitali che gli raccontano il testo che hanno davanti o gli descrivono delle immagini e allora siccome un deficit una disabilità grazie alla tecnologia può evitare di diventare un handicap cioè una non capacità di vivere con gli altri se usato nel bene tuttavia questo è anche un prodotto e conosciamo che i prodotti si vendono i prodotti hanno anche uno scopo commerciale sì certo e purtroppo si vendono spesso alle persone sbagliate succede anche questo la parola diseguaglianza che è una parola terribile è un coltello affilatissimo che taglia in due in maniera insindacabile purtroppo e non si può ritornare indietro situazioni vite perché se io uso tutta questa nuova tecnologia non soltanto per fini non giusti perché a età su quello ci arriviamo ma solo per me e non la condivido con gli altri faccio un'operazione altrettanto ingiusta la tecnologia è potere e come potere moltiplica e quindi un moltiplicatore può essere un moltiplicatore di ingiustizia senza sosta un programma del computer fa tante cose senza stancarsi ecco se io gli chiedo di fare tante cose che anche ogni singola cosa fa un granellino di ingiustizia a fine serata ne avrò una valanga invece posso anche con piccoli atti di giustizia messi nel codice se l'etica entra dentro l'algoritmo se abbiamo l'algoretica ecco posso creare delle valanghe di bene che possono anche contribuire a rendere più veloce il percorso della giustizia nel mondo padre Benanti lei ha detto una cosa tra le tante belle tutte belle illuminante cioè se un granello di ingiustizia spesso non ce ne rendiamo conto cioè a volte anche nei nostri gesti quotidiani nell'uso che noi facciamo quotidiano di questa grande nuova tecnologia compiamo un'ingiustizia che va dall'altra parte del mondo non ne siamo completamente informati ma nel momento in cui siamo informati no? sì questo è un tema che poi è tanto caro al Papa anche inlaudato sì non solo parla dei grandi problemi globali ma poi arriva dritto fino al cuore di ciascuno di noi quando dice che l'ecologia parte dai nostri piccoli gesti ecco la tecnologia è così chiede ciascuno di noi chiede a ciascuno di noi di prendere una posizione come io utilizzo il mio smartphone come io utilizzo il mio computer cioè come io interrogo l'algoritmo e quindi l'intelligenza artificiale contribuisco a farla schierare da una parte o dall'altra ecco quello che ci ricorda il Papa che magari nessuno di noi è decisore delle grandi sorti del mondo ma nel nostro piccolo non siamo neutrali possiamo fare la differenza una grande dobbiamo fare la differenza proprio dobbiamo fare la differenza padre Paolo Benanti che è docente di teologia morale e bioetica non lo mettevo in dubbio alla Pontificia Università Gregoriana membro corrispondente della Pontificia Accademia per la Vita con particolare mandato per il mondo appunto delle intelligenze artificiali ed è stato selezionato dal Ministero dello Sviluppo Economico come esperto per elaborare la strategia nazionale sull'intelligenza artificiale prima dell'inizio del nostro spazio ho chiesto a padre Benanti di aiutarci a capire tutto questo di aiutare le persone più più anziane più grandi in età perché poco da fare sono quelle meno avvezze meno 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 pronte anche ad usare queste tecnologie i giovani sono nati nascono con queste tecnologie già a portata di mano un bambino tenderà a fare questo gesto sul telefono dei genitori perché sa che il cosiddetto touch lo vede fare e impara a farlo ecco tutto questo deve appartenere ad una precisa linea etica ma questa linea etica noi come ce la possiamo dare? Noi noi parliamo di un noi prossimo noi chiesa ecco a febbraio scorso febbraio del 2020 poi gli eventi sono stati un po' come dire cancellati dal rumore purtroppo di tanta sofferenza legata anche al covid però i grandi rappresentanti delle industrie di questo mondo sono venuti a Roma per firmare davanti al Papa un impegno etico in questo senso e ne ricordo uno in particolare il presidente di Microsoft Brad Smith che ha detto con una voce chiarissima abbiamo bisogno dei valori senza tempo della Chiesa allora ripeto la domanda è antica sulla giustizia la sfida è nuova abbiamo bisogno di qualcuno che traduce in questo nuovo ambito l'eco di questa voce antica che è l'eco del Vangelo di una voce che dice guarda che si può amare senza paura di perdere è rete mondiale della preghiera del Papa per questo e anche per questo perché diciamo c'era tutta c'è gente che forse fa finta di ascoltare ma non applica e stiamo parlando di situazioni luoghi persone che fanno dell'uso di queste macchine che sono che sono affascinanti tu vedi fare qualcosa ad una macchina tu dai un input e quella macchina elabora si parla a buon titolo di intelligenza ma l'intelligenza è intelligere e capire lei lo insegna a me ovviamente ma la macchina ha capito ma per far capire anche quelli che non vogliono capire per intenderci chi si comporta male chi usa queste cose con cattiva volontà e lì servono tanti strumenti uno è senz'altro l'esempio l'altro serve poi anche una giurisprudenza una direttiva legale quindi non può rimanere semplicemente una voce etica perché la voce etica ha il potere di arrivare nella parte più profonda di me nel mio cuore ma rimane una voce la posso ignorare abbiamo bisogno anche di leggi che accompagnino tutto questo è una sfida diciamo che però ecco questo poi ovviamente il Covid ha fatto e continua a far parlare di sé però questo incontro questa firma che c'è stata proprio davanti al Papa che ha chiamato direttamente in causa ancora una volta la Chiesa ecco forse tutto questo non l'avremmo potuto immaginare che ne so 30 anni fa avremmo potuto sì avremmo potuto essere mediamente ottimisti però oggi c'è una comprensione maggiore io direi io direi lasciamoci stupire positivamente c'è uno stupore che questo Papa Porta tocca grandi temi in una maniera solare ecco c'è qualcosa di solare in tutto questo e secondo me questo sano stupore può aiutarci a vivere tutto nella giusta prospettiva allora forte padre padre Benanti è grande veramente me l'avevano detto ma lo state vedendo anche voi questo è Alfred Nobel quando noi sentiamo il premio Nobel è stato assegnato a e credo non credo esista un premio per chi per uomini di scienza di letteratura di insomma dell'arte del creare cose non credo che possa esistere un premio più importante eppure anche lì tutto nasce da una grande invenzione che poi si è tradotta anche in qualcosa di estremamente pericoloso eh sì questo esce da noi ogni conoscenza poi non è una conoscenza neutra la dinamite poteva salvare le vittime in miniera come ha fatto Nobel e poi è diventata l'unità di misura delle bombe in guerra quindi pensare che la tecnologia da se stessa sia bene o male è guardarla in una prospettiva sbagliata ogni volta però che noi tocchiamo un artefatto tecnologico c'è anche qualcosa di chi l'ha usato prima di noi che torna a noi chi ha fatto un fucile di precisione lo ha fatto con un canocchiale ecco se io guardo il mondo da quel canocchiale il canocchiale mi invita a dividere nel mondo tra amici e nemici mi chiede di fare una scelta ecco decodificare queste scelte è anche il ruolo della comunità se noi rimaniamo nell'individualità io da solo con c'è una maggiore possibilità di sbagliarci essere insieme essere noi fare un servizio come questo cioè accompagnarci a leggere il significato di uno strumento così potente nel bene e nel male come l'intelligenza artificiale e aiutare a dare a tutti la capacità di decodificare qual è la domandina magari nascosta che quell'artefatto tecnologico mi fa e se condividiamo se siamo di più se a me viene un dubbio io posso chiedere se se io vedo che qualcuno sta facendo qualcosa di sbagliato posso con educazione intervenire insomma si può dare una mano da francescano che posso dire la fraternità si aiuta padre paolo menanti io sono proprio contenta che lei abbia deciso di commentare con noi e anzi grazie infinite questa preghiera del papa la preghiera del mese di novembre la rete di preghiera mondiale del santo padre per una intelligenza artificiale che sia umana e al servizio dell'uomo e dell'umanità non lo dimentichiamo mai grazie infinite grazie davvero io vi ricordo questa sera la terza puntata di Benedetta Economia col punto esclamativo con Eugenia Scotti e il professor Luigino Bruni alle ore 21.50 sulla nostra TV 2000 lo sottolineo con grande entusiasmo il professor Bruni è stato nostro ospite lo sottolineo con grande entusiasmo perché Benedetta Economia è tutta da seguire e c'è tantissimo da imparare padre Penanti grazie ancora di essere stato in nostra compagnia ci vediamo domani alle ore 14 l'ora solare vi aspettiamo qui grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti